Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca un drammatico incidente stradale questo pomeriggio in lungo viale Donna Minzoni nel quale ha perso la vita un 73enne. Scontro frontale ad Arezzo tra due auto un uomo di 73 anni ha perso la vita e una donna di 40 è in gravi condizioni. È accaduto alle 14.15 in viale Donna Minzoni la circonvallazione della città. Il 73enne è stato trovato in auto in arresto cardiaco e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo dove nonostante gli interventi di rianimazione è deceduto poco dopo. La donna che era alla guida dell'altra auto, una quarantenne, è stata trasportata sempre all'ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso. Sul posto un'automedica, due ambulanze della misericordia di Arezzo, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Secondo i primi rilievi pare che sia stata l'auto della donna ad invadere la corsia opposta per cause ancora in corso di accertamento. Una brutta avventura invece per un 22enne in Casentino questa mattina precipitato lungo il torrente Ciuffenna. È successo attorno alle 10.30 sul posto i mezzi dell'emergenza urgenza dell'azienda sanitaria per soccorrere il giovane caduto in un tratto particolarmente impervio del corso d'acqua. I sanitari lo hanno raggiunto e una volta messo in sicurezza è stato recuperato con un verricello dell'elicottero Pegaso 2 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. E un altro incidente invece alcuni giorni fa in provincia di Arezzo a seguito del quale è scomparsa una donna. La questura sta infatti cercando una 53enne che la scorsa domenica si era allontanata in auto da Taranto due notti fa poi in Valdichiana e è rimasta coinvolta in un incidente. Accompagnata all'ospedale San Donato di Arezzo e da lì si è allontanata e è stato confusionale. A chiedere l'aiuto di tutti sono i familiari. Al momento della scomparsa la donna indossava una maglia arancione. E adesso sentiamo invece la storia di un uomo, una cittadina che ci ha contattato, invalido al 100% deve pagare i viaggi per la fisioterapia. Il servizio di Greta Settimelli. Devono capire che non sono loro sul piedistando, nemmeno io, ma che i miei diritti io li voglio. Domenico Scatraglia, un ultraottantenne disabile al 100% riconosciuto dall'Unità Operativa di Medicina Legale della Aslo Toscana Sud-Est nel 2007. Risiede nel comune di Arezzo con la moglie, anche lei con importanti problemi di salute. Dopo un lungo ricovero in ospedale, l'ottantenne ha effettuato un primo ciclo di fisioterapie nella speranza di recuperare forza nelle gambe e quindi autonomia. Ha bisogno di queste fisioterapie perché... Per rinforzare questa gamba e ripigliare quel senso di equilibrio che mi è venuto a mancare, perché la sinistra è buona, ma è la destra che ha perso completamente la fisionomia del muscolo, perché è un muscolo poliomilitico e se non viene allenato non viene... ma se io non mi posso allenare come faccio? Se vuoi continuare a farle, le spese di trasporto sono a suo carico. A me mi ha detto, ma i viaggi, i viaggi se li paga? Io mi pago i viaggi. No, domando questo, io poi dopo non domando altro. Se questa è la nostra sanità, se sono verso più fragili o meno. Domenico ha un ISEI che supera di poco i 16 mila euro l'anno e quindi, secondo le nuove disposizioni della regione toscana, non rientra tra coloro la soglia è di poco più di 9 mila euro che hanno diritto al trasporto gratuito. Lui contesta proprio la regola nella quale sono incappati migliaia di cittadini nella sua stessa condizione. Di sicuro però non è una condizione di chi si piange addosso, sarei disposto, ci dice, a raggiungere autonomamente il luogo delle terapie. Poi però precisa, una volta che sono lì, chi mi aiuta a scendere la carrozzina? E dopo che mi scendi? Se non c'ho la carrozzina qui? Io non voglio commuovere la gente, ma la gente deve capire che questa... Dici hanno tagliato le cose, tagliato, ma io ho un diritto. Giostra della Zaracino si avvicina la notte delle cene propiziatorie per la giostra, appunto, e scatta anche l'ordinanza del sindaco Ghinelli a tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma non è l'unico provvedimento preso dalla primo cittadino. Vediamo il servizio. Torna il divieto di vendere alcolici a ridosso di Piazza Grande. È stata infatti firmata dal sindaco Ghinelli l'ordinanza che contiene le misure per la sicurezza urbana in occasione degli appuntamenti previsti dal programma della giostra del Zaracino. Le esposizioni previste per i giorni di giovedì 31 agosto dalle 15.30 alle 20 durante lo svolgimento della simulazione di gara, venerdì 1 settembre dalle 19 alle 2 in occasione della prova generale ed infine domenica 3 settembre dalle 15.30 alle 24 durante la giostra del Zaracino. Divieto dunque in Piazza Grande di accesso agli animali e alle persone in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche, vietata poi l'introduzione e l'uso di fumogeni, petardi, ma anche trombe da stadio, tamburi e bandiere di dimensione superiore ad un metro per lato. Divieto di ingresso anche per aste rigide di qualsiasi taglio ed aste flessibili di lunghezza superiore ad un metro, vietate anche luci laser ed altri oggetti che possano recare disturbo a cavalli e cavalieri. Ai titolari e ai gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano in Piazza Grande, via Vasari, via Pescaia e via Seteria, è fatto poi divieto di somministrazione e consumo sul posto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, vietata anche la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro e o lattine ed infine la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche. Le violazioni alle disposizioni dell'ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative da 300 a 1000 euro. Pronto anche il consueto piano di emergenza dell'Asla Toscana Sud-Est da impegnare in caso di malori o incidenti durante lo svolgimento della manifestazione. Sei le ambulanze che saranno presenti tra dentro e fuori la piazza e 30 i soccorretori delle associazioni di volontariato che affiancheranno il 118. Anche il corteo di figuranti sarà accompagnato da due ambulanze sanitari pronti ad intervenire. Quest'anno, vista la concomitanza con la fiera antiquaria e le previste maggiori presenze, il coordinamento regionale delle maxi emergenze metterà a disposizione anche un drone per avere nell'immediato le immagini dall'alto. Naturalmente l'Asla Toscana Sud-Est seguirà ed assisterà il saracino anche nella parte veterinaria, quella che riguarda i cavalli. Domani è in programma intanto la prova generale della 144esima edizione della giostra del saracino che prenderà avvio alle 21.30. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per poter assistere. I tagliandi possono essere acquistati sia online sul circuito tica.it che presso la biglietteria del percorso espositivo I colori della giostra. La prova generale per questa edizione sarà corsa in memoria di Vittorio Dini, primo direttore tecnico degli sbandieratori di Arezzo. E adesso cambiamo pagina per parlare di truffe agli anziani, un fenomeno purtroppo presente anche in provincia di Arezzo. E da questo fine settimana torna al mercato di Via Giotto la campagna Te me piaci poco. Vediamo. Un'anziana signora condito a monitore e sguardo severo che invitano a farsi trovare impreparati di fronte alle truffe e a telefonare in caso di emergenza al 112. Torna così sabato 2 settembre, dopo la pausa estiva, la campagna per la prevenzione delle truffe agli anziani Te me piaci poco, ideata ed organizzata dal comune di Arezzo e dalla polizia municipale. Gli operatori, riconoscibili dall'abbigliamento contrassegnato dall'indicazione staff e dal logo del comune, saranno presenti con un gazebo all'interno del mercato settimanale davanti all'ingresso di piazza Giotto, pronti come al solito a consegnare materiale informativo e gadget e a consigliare una serie di buone pratiche utili a riconoscere da giri e gli imbroghi più frequenti, dalle visite di falsi operatori, alle truffe telefoniche e gli adescamenti per strada o su internet e sui social, dove è sufficiente un clic sbagliato per essere raggirati a distanza. La scelta del mercato di viagiotto nasce dalla volontà di andare fisicamente in uno dei luoghi maggiormente frequentati dagli aretini, obiettivo principale di questa campagna, realizzata con il finanziamento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Fondo Unico Giustizia e regolata da un protocollo d'intesa tra Comune e Prefettura. Spostiamoci adesso a Monte San Savino, dove nel mese di agosto si sarebbero verificati una serie di disservizi da parte di Sei Toscana. A denunciarlo il sindaco Gianni Bennati, che ha reso nota la situazione sia a Sei Toscana che a lato Toscana Sud. Ho dato incarico alla Municipale di indagare circa la regolarità del servizio di raccolta, rifiuti e pulizia delle strade del centro storico, aree particolarmente interessate dal flusso turistico. Ha dichiarato, il rapporto ha evidenziato una serie di disservizi di particolare rilevanza, ben visibili a cittadini e visitatori. I fatti sono stati denunciati alla stessa steia, a Toscana Sud con l'avvertimento che saranno messi i pagamenti relativi ai servizi non erogati nel mese di agosto. Inoltre, ritengo, conclude il primo cittadino, che i disservizi abbiano arrecato un danno d'immagine nella città, tale da valutare ogni e ulteriore azione. Alla Chiazza, invece, parte l'attività del nuovo centro servizi di ponte alla Chiazza. Giovedì 7 settembre sarà riattivato lo sportello nato dalla sinergia tra associazione Pietro Nenni, Acli e Legambiente per fornire prestazioni in ambito fiscale, previdenziale, assistenziale, ambientale e filosofico agli abitanti di Giovi, Pontella e Chiazza e le altre località limitrofe. La comune volontà è quella di garantire prossimità e professionalità, soprattutto a quei cittadini che con l'avanzare dell'età vivono situazioni di solitudine o difficoltà. In Valdarno, invece, la rete regionale dei servizi pubblici per l'impiego è arrivata. Da questa mattina, infatti, è stato inaugurato il nuovo sportello dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego all'interno di alcuni locali del municipio di San Giovanni Valdarno. Lo sportello offrirà servizi di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione nelle liste dedicate alle categorie fragili e servizi alle imprese. Sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. E adesso andiamo in Casentino, a Stia, dove questa mattina si sono accese le forge e hanno iniziato a battere il ferro e a cesellare gli oltre 300 fabbri provenienti da 16 paesi di tutto il mondo. Si è infatti aperta la 25esima edizione biennale europea d'arte fabbrile e ha preso il via l'undicesimo campionato del mondo di forgiatura che si concluderà domenica 3 settembre. Il tema scelto per questa edizione è quello di connessioni. E adesso la pagina dello sport. È la vigilia del campionato di Serie C. Domani infatti la prima di campionato per gli Amaranto in Romagna contro il Rimini. Anche Paolo Indiani non vede l'ora di ricominciare. Sentiamo le sue parole. Sicuramente troveremo una temperatura rispetto all'ultimo amievole, un 20 gradi meno perché l'abbiamo fatta più o meno a 40 gradi domani, anche se è più di 20-25. Sicuramente è un vantaggio per noi, non è uno svantaggio. A me piace proprio fare amievole in condizioni più di difficoltà climatica. Poi sicuramente il campionato, l'anno scorso è chiaro, era uguale perché giocavamo sempre di giorno. Quest'anno, visto anche il calendario delle prime giornate, giochiamo sempre in temperature molto molto più basse rispetto a quello in cui ci siamo allenati e fatto l'amievole. Un avversario che si è già consolidato in categoria. L'anno scorso sono arrivati addirittura, mi sembra, ai play-off. È un avversario importante e fanno la prima in casa loro, sicuramente vorranno fare una buonissima figura. È chiaro, è una squadra quasi totalmente rinnovata rispetto all'anno passato. Speriamo il nostro invece essere quasi più o meno, quelli dell'anno precedente, sia un vantaggio per noi. Noi andiamo a Rimini per fare la partita noi. Se poi non ci riusciamo è perché Rimini è più bravo e ci non pedisce. Ma non andiamo là per fare la partita noi. Questa è l'unica cosa certa a questo momento. Pronto al debutto anche la di Sabatino Selvagio. Sentiamo le sue parole sul prossimo campionato e sul palinsesto Lega Pro su Sky. Certamente il campionato che affronteremo è un campionato di... Stavolta siamo tutti venuti in classifica, quindi l'obiettivo è quello di farlo bene. Dobbiamo, riteniamo, di avere arrestito una squadra, una rosa che possa tranquillamente fare un campionato di Serie C. È chiaro che poi sarà il campo l'arbitro di tutto e capire che cosa sarebbe in grado di dare nell'arco della stagione. Per quanto riguarda la partecipazione con la Lega Pro, con la Sky, è sicuramente un valore aggiunto, una maggiore visibilità. E questo, se gestito bene da parte della società, aumenta sicuramente anche il valore patrimoniale della società stessa. Quindi, che ben venga, dipende la società come lavora. Possiamo sicuramente lavorare a partecipare a Sky, ci permette di avere quell'opportunità anche a livello di sponsorizzazioni che fino a qualche anno fa non potevamo avere, non potevamo poter vendere. È chiaro che tutto questo ha una ripercussione sia in prima squadra sia nel settore giovanile, dove noi stiamo investendo in larga misura. Amichevole in famiglia invece per l'Arezzo calcio femminile, ieri a Castiglion-Fibocchi sfida tra prima squadra e Primavera. Un'altra partita per preparare questo campionato, questa Primavera è Fortarella. Prima di tutto abbiamo parlato anche con Ilaria, con il mister della Primavera. Siamo tutti come società qui orgogliosi di queste ragazze della Primavera, perché veramente non solo hanno vinto l'anno scorso il campionato, però il lavoro che sta facendo anche il mister è molto molto simile nella filosofia nostra. Quindi palleggio, crescita da dietro, sviluppo dal gioco da dietro, prendere il pallone dentro le linee. Quindi spero e sono quasi sicuro che avranno una buona stagione quest'anno. La Primavera quest'anno è una squadra quasi totalmente cambiata, perché tante arrivano dall'anno 17, tante sono anche nuove. Quindi stiamo cercando di amalgamare il gruppo in primis e dare principalmente due o tre concetti e principi che io in primis li do. Abbiamo iniziato da una settimana, quindi è stata una settimana intensa, tosta, però sono contentissima della prestazione che hanno fatto le ragazze, soprattutto l'intensità che hanno messo nel primo tempo. È una settimana che ci alleniamo e soprattutto ora abbiamo due impegni, questa settimana di due partite, una è stata con la prima squadra e l'altra sarà venerdì contro i ragazzi del 2009 del Foiano, quindi un altro impegno tosto e abbiamo un attimo dovuto anche equilibrare le ragazze per l'impegno che comunque mettono in campo. Passiamo al basket ed andiamo a conoscere meglio l'Amaranto, l'Aerte Fabrizi. In che ruolo giochi? Gioco esterno. Significa? Significa 3-4. Sei uno dei più giovani sicuramente della Rosa Amaranto, come ci si sente a far parte di una squadra e soprattutto ad affrontare un campionato così importante alla tua giovane età? Molto orgoglioso e tantissima voglia di imparare dagli allenatori e soprattutto anche dai compagni più esperti, quindi massima concentrazione e massimo impegno. Tu arrivi dal Valdarno? Dal Valdarno, dalla Synergy. Quindi non hai problemi, non sei lontano da casa dai tuoi affetti? No, no, la lontananza non è un problema, pochi minuti in treno e sono in palazzetto. Come ti senti di affrontare questo campionato? Mi sento molto contento, molto entusiasta e con tanta voglia di fare. Questa per la stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.